In Italia la crisi non è uguale per tutti ce lo insegna il governo Letta Alfano con le sue misure razziste e discriminatorie naturalmente verso il nord la locomotiva del paese l'esecutivo delle larghe intese ha stanziato 500 milioni di euro a favore dei giovani del sud ha inventato una carta della povertà dedicata esclusivamente ai disoccupati del sud e al nord hai tanti ragazzi rimasti senza lavoro nelle regioni più produttive briciole, praticamente niente nisba, come si dice da queste parti c'è altro? sì, il decreto lavoro prevede il finanziamento di 80 milioni a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità per le imprese ma naturalmente solo del sud io mi bello io mi bello la pallamma salarandella hei, 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 hei grazie a tutti